Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole oggi è martedì 4 dicembre 2018 e questo è il market profile della sessione overnight e questo è il market profile della sessione di ieri bene, nella sessione di ieri non ci sono livelli importanti è stato un trend down, nonostante c'era un gap up come vedi questo rettangolo evidenzia il gap up aperto nella sessione overnight come vedi la sessione azziati andrà al ribasso e poi la sessione andinese è stata leggermente a rialzo beh, noi abbiamo aperto qua, in prossimità del POC overnight questa linea all'orciriano sottile è un nodo di bassi volumi preso dal market profile bene, il trade che ho fatto io, profittevole, è stato questo ho aspettato 5 minuti nella sessione, va bene? veramente sono entrato a long, a questo rimbalzo su VWAP come vedi il VWAP era inclinato al rialzo io sono entrato con 5 non tratti, lo stop loss era sotto questi due stacker buying balance, va bene? proprio sotto VWAP della sessione a 30 minuti il mio target era poi TIC prima di questo massimo creato dall'apertura pitusa, ok? proprio concomitanza di questi big selling balance, ok? come sono entrato nel mercato, come vedi, è andato questo grafico a 5 minuti, questo era grafico a un minuto dove ho basato la mia entrata a 5 minuti, come vedi, il mercato è andato a rialzo a un minuto di nuovo il mercato è andato a rialzo il mercato ha fatto una sell trap qui in prossimità di questo LVN, questo nodo di bassi volume ho trovato dal market profile e poi andato a prendermi il mio target, come vedi e niente, questo è il trade della giornata e ho collezionato, come vedi, in 5 minuti il mercato è andato lì questo era il market profile, l'apertura aperto veramente in prossimità del POS overnight e ho attraversato questo LVN e poi è andato a rialzo, va bene? veramente ho collezionato 1000 dollari tondi in questo veloce trade all'apertura Pirusa dell'SP Mini 500 se anche tu vuoi trarre in questo modo fare meglio di me allora mio caro amico scrivimi la tua storia adesso e mandami la link sotto a questo video vi auguro grossi e grazie su questi profitti e nella nostra prossima sessione di trading ciao da almai ci vediamo domani al prossimo 3 Profittevole ciao